Dal 15 gennaio sarà possibile presentare domanda per 160 borse lavoro destinate a disoccupati adulti con più di 30 anni e per 60 borse di ricerca destinate a giovani laureati under 30. La Giunta regionale nell'ultima seduta ha rifinanziato un'attività che dal 2019 allo scorso anno ha già dato degli ottimi risultati. Oggi è giusto parlare di crisi sanitaria perché è questa l'urgenza e l'emergenza ma da qui le prossime settimane e i prossimi mesi quando la crisi sanitaria speriamo sarà passata la vera crisi sarà quella economica di persone che perdono hanno già perso e perderanno il lavoro purtroppo. Quindi come Regione Marche stiamo facendo un piano di intervento e di incoraggiamento alle imprese ad assumere. Quindi non tanto corsi di formazione per formare i disoccupati e riconvertirsi ma corsi mirati attraverso le aziende. Cioè finanziamo le aziende per inserire al loro interno giovani disoccupati o anche persone di un'età più avanzata che sono ancora più in difficoltà ad accedere al mondo del lavoro e contribuiamo al loro reinserimento direttamente. Negli ultimi due anni le risorse complessive che la Regione ha destinato a queste misure ammontano ad oltre 8 milioni di euro. Per il 2021 i residui messi a disposizione sono pari a circa 1 milione e 200 mila. Questa è un'iniziativa che parte adesso ma che avrà poi un seguito perché la cifra che stiamo investendo in questo senso su questo anno è di 25 milioni di euro. Ce n'è già uno fuori di un bando che abbiamo approvato a fine anno per 2 milioni e 900 mila euro per giovani tra i 18 e i 30 anni che vogliono aprire le proprie partite IVA. E questo è altrettanto interessante, chi vuol mettersi in proprio, chi ha la forza, il coraggio, la voglia di mettersi in gioco. Lì ci sono 35 mila euro fonde perduto che sono 15 mila euro proprio per chi apre inizialmente la partita IVA e altri 20 mila euro se poi assume entro l'anno anche un dipendente. Quindi ecco queste sono le forme che io chiamo di politiche del lavoro attive, non passive, cioè non di sostegno a chi perde il lavoro ma di sostegno a chi lo crea il lavoro che è ovviamente quello che serve per davvero in questa fase. Grazie a tutti.